ben ritrovati e benvenuti amici di auto occasioni oggi vi do il benvenuto dal ds store proprio a torino in corso rosselli 181 e questo mese veramente tantissime novità e partiamo dalla ds3 crossback che potrà essere vostra a partire da 179 euro e invece a partire da 300 euro con noleggio free to move ds automobile e passiamo all'elettrico stando sempre su ds3 ds3 itens potrà essere vostra a partire da 325 euro al mese oppure con noleggio a partire da 310 euro al mese con free to move ds automobile e passiamo all'ammiraglia di casa ads siamo su ds7 crossback che potrà essere vostra a partire da 299 euro al mese oppure a partire da 400 euro al mese con noleggio free to move ds automobile e la versione itens a partire da 495 euro al mese oppure a partire da 400 euro al mese con noleggio free to move ds automobile fino ad esaurimento incentivi statali venite a scoprire tutto il mondo ds e a respirare il vero lusso parigino qui in corso rosselli 181 a torino e da ds ci siamo spostati in teorema citroen dove ritroviamo nunzio roselli ciao nunzio ciao elisa bentornati a tutti e grazie allora apriamo la puntata dicendovi che ci sono veramente tante tante proposte sull'usato e sui chilometri zero ma ovviamente entriamo sul nuovo beh direi di sì partiamo col nuovo e il nuovo è sempre molto 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 vantaggioso perché il teorema continua con la campagna sempre nuova i prodotti sono praticamente tutti in pronta consegna quindi ne approfittiamo in questo inverno e partirei subito con quella che è sempre la più venduta quindi c3 live 83 cavalli un listino di 14.100 attenzione con la formula sempre nuova 9.900 euro quindi mille euro in meno di quello che l'offerta citroen casa madre passiamo a quello che è il compat suv suv c3 aircross live 110 purtec un listino anche qui di 19.400 euro anche qui abbiamo ben mille euro in meno con la formula sempre nuova quindi è vostra 13.900 euro passiamo al c5 aircross la mia preferita in assoluto e qui di fianco a noi anche qui molto molto interessante abbiamo sia la versione termica che la versione elettrica ma vi ricordo che la termica esce con un prezzo di listino di 26.900 euro la proposta con la formula sempre nuova è di 18.900 euro quindi molto interessante per un suv di dimensioni importanti finiamo con quella che è la piccolina di casa citroen la c1 la city car in assoluto anche qui un 72 cavalli tre porte live la richiesta di casa madre ovviamente di 10.750 di listino con uno sconto teorema sempre nuovo 7.250 quindi un prezzo veramente interessante ma ricordiamo i nostri telespettatori che in questo mese c'è una super novità ebbene sì sta per uscire ma sarà ed è già nei nostri saloni in anteprima c4 c4 è una versione termica e nella versione elettrica una vettura da provare in assoluto perché le sensazioni sono veramente ottime e qui partiamo da un listino di 22.900 euro con sempre nuova 19.200 euro venite a scoprire questa nuova chicca allora avete sentito veramente tantissime proposte sul nuovo ma adesso state con noi andiamo a scoprire insieme l'usato i chilometri zero e le aziendali e partiamo con una bellissima hyundai tucson 1.700 diesel comfort plus la richiesta è di 16.900 euro ma con la formula sempre nuova per questo mese 15.900 euro con la voltura compresa nel prezzo entriamo in casa fiat 500l 1.600 multijet lounge 120 cavalli la richiesta di 13.900 euro ma attenzione formula sempre nuova meno 1.000 12.900 euro e voltura compresa e passiamo ad una opel mocca cosmo benzina 140 cavalli ha percorso 21.000 chilometri è stata immatricolata nel 2018 la richiesta è di 16.900 euro ma con la formula sempre nuova 15.900 euro con la voltura compresa nel prezzo rientriamo in casa citroen le stavamo aspettando ne sono arrivate sono qui disponibili per voi c3 filpac sono delle chilometri zero già del 2020 con la formula sempre nuova 13.900 euro voltura compresa e siamo passati a questa bellissima volkswagen tiguan 2000 tdi executive for motion automatica ha percorso 74.000 chilometri immatricolata nel 2016 la richiesta è di 23.900 euro ma con la formula sempre nuova solo 22.900 euro con voltura compresa nel prezzo entriamo in casa peggio un 208 1200 purtec una versione benzina 82 cavalli cinque porte la nostra richiesta di 11.900 euro ma attenzione con la formula sempre nuova 10.900 euro e la voltura è compresa e siamo passati ad un'altra splendida vettura parliamo di una peggio 2008 benzina automatica allure la richiesta è di 16.900 euro ma con la formula sempre nuova 15.900 euro e solo per questo mese la voltura è compresa nel prezzo rientriamo in casa citroen c3 aircross purtec 110 cavalli benzina shine richiesta 17.500 euro ma con la formula sempre nuova 16.500 euro e la voltura compresa e chiudiamo con la nostra carrellata con una peggio 2008 diesel allure 115 cavalli ha percorso 74.000 chilometri immatricolata nel 2014 prezzo 10.900 euro ma con la formula sempre nuova 9.900 euro e con la voltura compresa nel prezzo vi invito a venire ovviamente qui presso teorema citroen come avete capito questo mese voltura compresa nel prezzo per usato chilometri zero e aziendali quindi venite qui in corso rosselli 181 da qui è tutto alla prossima puntata grazie a tutti